Questa mattina c'è la convention con tutte le liste e qual è l'auspicio di Marco Marsilio? L'auspicio è quello di raccontare oggi agli abruzzesi e di raccogliere le migliori energie dagli abruzzesi per costruire una regione che possa guardare con serenità al futuro, mentre oggi è purtroppo una terra in preda alla disperazione, all'abbandono, alla desertificazione. Dobbiamo restituire coraggio e forza attraverso le buone idee per rilanciare lo sviluppo di questa regione, riportare lavoro, riportare ricchezza come lo è stato negli anni passati. L'Abruzzo ha conosciuto stagioni in cui cresceva ed era la locomotiva del centro-sud, un modello di sviluppo e di fuoriuscita, anzi, della condizione di sottosviluppo. Quell'Abruzzo è l'Abruzzo migliore che noi vogliamo riportare in voga e vogliamo ricostruire con l'aiuto degli abruzzesi e della loro creatività, del grande genio e dell'eccellenza che ci sono in questa terra per dare un futuro diverso ai nostri figli, che nessuno debba più scappare ed emigrare dalla nostra terra. Le priorità per Marco Marsilio, per quella regione Abruzzo? Le infrastrutture, la sanità, lo sviluppo economico, queste sono le nostre priorità. La Lega è in prima fila per sostenere la mia candidatura, oggi stesso Salvini farà altre due manifestazioni importanti a Vasto e Lanciano e questa è la risposta migliore che possiamo dare a queste chiacchiere. Servirebbe il blocco navale a largo delle coste libiche perché questa è l'unica ricetta che può bloccare questi barconi e evitare i morti in mare. Il resto è solo buonismo d'accatto che produce queste tragedie.